Ferrara ha celebrato il 76esimo anniversario della liberazione. Le celebrazioni sono venute a cura del Comitato 25 Aprile, composto oltre che dal Comune e dalla Prefettura di Ferrara, da Ampi, Associazione Partigiani Cristiani, Associazioni Combattentistiche Patriottiche, Associazioni Culturali e Neoprofit, Autorità Religiose, Comunità Ebraica, Istituto di Storia Contemporanea, Istituzioni Scolastiche, Movimenti Femminili, Museo del Risorgimento e della Resistenza, Rappresentanze delle Forze dell'Ordine Militari e Ufficio Scolastico Provinciale. Alle 10.30 in Piazza Cattedrale, il Prefetto Michele Campanaro ed il Vice Sindaco Nicola Lodi hanno deposto una corona d'alloro alla Torre della Vittoria, alla presenza di rappresentanti delle Associazioni Partigiane Combattentistiche ed Arma. Poco prima, alle 10, l'Assessore Marco Gulinelli ha presenziato a Porotto ad una cerimonia parallela con la deposizione di una corona al cippo di Via Tagliaferri e a quello di Via Ladino. In seguito alle restrizioni dovute all'emergenza Covid, le celebrazioni si sono tenute in forma ridotta, senza il consueto alza bandiera. Il programma di iniziative del Comitato Celebrazioni 25 Aprile proseguirà fino a martedì 27 in videoconferenza con la presentazione del libro di Daniele Susini La resistenza ebraica in Europa, storie e percorsi 1939-1945 a cura dell'Istituto di Storia Contemporanea e del Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah.